è dedicato a un politico abbastanza bravo è un politico di meglio successo in questa fase storica 21 gennaio sarà a Bologna e il 22 a Roma per gli amici di Milano ho una brutta notizia sold out mi dispiace dovrete aspettare grazie, buone feste a voi facciamo entrare l'onore